Non è sempre facile far capire all'estero la potenza e i meccanismi dell'Andrangheta, ma da un anno è stato creato un progetto di cooperazione tra la polizia italiana e l'Interpol contro la criminalità calabrese. Si chiama ICANN e una riunione operativa si è tenuta oggi a Catanzaro. Per l'occasione è arrivato anche il vice direttore dell'Interpol, Stephen Kavanagh. Vogliamo capire quali sono le connessioni grazie alle quali l'Andrangheta riesce a raggiungere le altre aree del mondo a partire dalla Calabria. L'impatto è sull'economia locale, nelle Americhe, in Australia, in Europa. Vogliamo aiutare le procure locali nel contesto all'Andrangheta. Il progetto ICANN coinvolge dieci paesi, dalla Germania agli Stati Uniti, che hanno costituito unità operative dedicate alla lotta all'Andrangheta. L'arresto di Marc Ferenclo da Santo Domingo, ritenuto fornitore di droga dei Cacciola di Rosarno, è stato solo l'ultimo atto. La progettualità ICANN è una progettualità che ha dato già molti risultati, molti latitanti sono stati localizzati in giro per il mondo contro una minaccia globale, una lotta globale. Incontro operativo, le prossime mosse nella lotta all'Andrangheta, nel faccia a faccia con Giovanni Bombardieri e Nicola Gratteri. Per creare un'uniformità di indirizzo, di approccio, di tecnica di indagine.